La presentazione milanese della commedia Un fantastico via vai è stata un'occasione d'oro per Leonardo Pieraccioni per parlare anche della vittoria di Matteo Renzi alle primarie del Partito Democratico. È un concorrente sleale, ha scherzato il comico. Noi facciamo i nostri spettacoli di un'ora e mezza. Lui invece alla Leopolda ha fatto discorsi di quattro ore. Dormiva mezz'ora come Berlusconi ai tempi d'oro. Meno male che ora diventa presidente del Consiglio e ce lo siamo tolto.